C'è un piano di sgomberi ben definito con criteri oggettivi in Prefettura a Roma, che parte dagli stabili pericolanti, passa agli stabili su cui c'è un procedimento giudiziario e poi si occupa di tutti gli altri, quindi tutti gli stabili occupati abusivamente dovranno essere sgomberati per avere un criterio oggettivo e non a simpatia o antipatia, ci sono quelli pericolanti e pericolosi, quelli con procedimenti giudiziari finiti o in atto e poi tutti gli altri. Però quel piano di fatto è lo stesso del Prefetto Pronca, che è stato fatto 5 anni fa, gli stabili sono gli stessi? No, sono stati sgomberati diversi palazzi. Due in 5 anni di fatto la regolarità? Ce ne sono due in programma di sgombero nelle prossime settimane, ovviamente non entro nel merito di quali, ma ho chiesto un'accelerazione e da che sono Ministro mi sembra che l'accelerazione si sia notata.